Estratti in corte d'appello a Campobasso i simboli dei partiti politici in corsa per le elezioni del 25 settembre. Sono 13 le liste in corsa in Molise, 8 ripartite in due coalizioni, centrodestra e centrosinistra. Per quanto riguarda il Senato, primo sulla scheda che gli elettori del Molise troveranno il 25 settembre è il Movimento 5 Stelle, seguito dal centrosinistra, per il quale nell'ordine, sulla scheda, compariranno Partito Democratico, Impegno Civico, Di Maio, Più Europa e Alleanza Verdi-Sinistra. Sempre sulla scheda del Senato, in terza posizione, c'è il centrodestra, i cui simboli sono in quest'ordine Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Lega, seguono Italia Sovrana e Popolare, Azione e Italia Viva, Unione Popolare con De Magistris e Noi di Centro, Mastella. Per quanto riguarda i simboli che gli elettori molisani troveranno sulla scheda per votare i deputati, quindi la scheda relativa alla Camera, al primo posto sorteggiata Italia Sovrana e Popolare, seguita dalla coalizione di centrosinistra e i simboli dei partiti agganciati ai listini plurinominali in quest'ordine, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Impegno Civico, Di Maio e Più Europa. In terza posizione il centrodestra, in quest'ordine Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Fratelli d'Italia. A seguire, Azione e Italia Viva, Noi di Centro, Mastella, Unione Popolare e Movimento 5 Stelle. Le operazioni di sorteggio si sono concluse ieri, poco dopo le 14 in tribunale a Campobasso, erano presenti i rappresentanti delle liste ammesse alla competizione elettorale del 25 settembre.